Abbiamo paura, tanta paura, perché con gli aumenti che ci sono in generale di luce, gas e acqua, noi siamo una di quelle categorie che ha sofferto di più, abbiamo paura e siamo stanchi. Non ci stanno albergatori e operatori turistici di Roseto degli Abruzzi alle modifiche proposte relative all'imposta di soggiorno che, secondo delibera della Giunta Comunale, prevede non solo l'aumento, ma addirittura l'ampliamento del periodo dal 1 aprile al 31 ottobre. L'emergenza sanitaria non ha risparmiato nessuna categoria in questi due anni, per questo l'associazione operatori turistici Roseto Incoming chiede al sindaco Mario Nunez l'avvio di un tavolo di confronto, prima di prendere decisioni che potrebbero mettere in ginocchio definitivamente il turismo rosetano. Innanzitutto chiediamo un tavolo per discuterne e di conseguenza addirittura, se si può, non dico azzerarla, ma almeno addirittura abbassarla. Diverse località balneari, aggiungono gli operatori, hanno addirittura azzerato il pagamento dell'imposta di soggiorno Vedi Pescara, Civitanova o Viareggio, grazie ai ristori del governo per il Covid. Sì, quello è proprio un incentivo per far sì che magari il turista venga e si stia addirittura anche qualche settimana in più. Abbiamo dei comuni vicini dove lo fanno e dunque non vede il motivo per non farlo neanche noi. Proviamoci, almeno troviamo una soluzione. Proprio l'attuale sindaco Nugnes, unitamente ad altri componenti dell'opposizione, si erano impegnati per bloccare la decisione del precedente primo cittadino sabatino di Girolamo di applicare a Roseto l'imposta di soggiorno. Battaglia arrivata addirittura sui tavoli del Tarabruzzo che annullò la prima delibera approvata dall'amministrazione di Girolamo, ritenuta illegittima in un primo momento. Tassa di soggiorno poi applicata con la condizione che una parte venisse destinata per la promozione turistica. Quando sarà possibile incontrare il sindaco e l'amministrazione comunale? Spero al breve tempo possibile perché la stagione è alle porte. Dobbiamo organizzarci e non essere impreparati. Dobbiamo preparare i listini prezzi e comunicarlo ai clienti. Di conseguenza è il primo possibile.